Il 7 giugno si rinnova un appuntamento ormai importante per la città di Andria, sport e beneficenza, sport e volontariato anche. La quarta edizione della partita del cuore. Don Riccardo Agresti ci spieghi le novità di questa iniziativa. La manifestazione vede il coinvolgimento non solo degli imprenditori della nostra città ma anche la squadra italiana degli attori ma anche la rappresentativa dei magistrati di Trani e di Bari. Questo permetterà attraverso l'incasso di devolvere per questo progetto, amici San Vittore, per intenderci la vecchia comunità incontro che è stata rilevata dai padri rogazionisti e che noi, cioè Don Riccardo Agresti e Don Vincenzo Giannelli, abbiamo chiesto di lavorare insieme. Oggi ne siamo qualificati perché dopo un tirocinio di anni di esperienza all'interno delle nostre comunità ma anche del carcere di Trani vorremmo far diventare un luogo residenziale, quindi sotto le pendici del nostro Castel del Monte per dare un impiego di lavoro a coloro che hanno sbagliato nella vita e che non riescono più ad integrarsi all'interno della società. Questo non è un sogno semplicemente ma è un progetto incarnato all'interno dei nostri cuori e che adesso noi vorremmo farlo rimbalzare in tutte le coscienze per capire che una società non va emarginata ma una società va integrata in tutti i suoi componenti, in tutti i suoi aspetti. Noi entreremo nelle scuole nei prossimi giorni, diremo ai nostri ragazzi di venire allo stadio, è un biglietto simbolico di un euro, tre euro ma avremo dei personaggi nel mondo della legalità ma anche dello sport, ma anche degli attori per cui io penso una serata di grande divertimento e soprattutto di grande messaggio. Noi diremo che è la giornata della legalità perché ad Andria sono stati sequestrati alcuni imprenditori il sequestri lampo, so che la magistratura sta facendo il suo corso e molto bene, allora noi vorremmo anche far comprendere che non possiamo dare una mano a coloro che sono in difficoltà come rubano e così e poi dall'altra parte vanno proprio dagli imprenditori a chiedere queste risorse. Questo è il contraddittorio che noi vogliamo far rimbalzare, non è possibile questo.